Non so se dalla pagina Facebook siamo in streaming, ok siamo in streaming, bene, benvenuti a tutti e tutte, intanto iniziamo a introdurre l'appuntamento di oggi con Novella Tarsi dell'Informa Giovani che ci parlerà di quest'ultima puntata di Banchi di Prova, l'ultima puntata online speriamo. Buonasera a tutti, Novella Tarsi dell'Informa Giovani Multitasking, siamo al quinto degli incontri Banchi di Prova realizzato dall'Informa Giovani Multitasking in co-progettazione con l'associazione Emilio Doc. Passiamo dalla scuola del fallimento dell'incontro precedente a invece un progetto che funziona quando i pianeti si allineano, quindi presenteremo quattro idee imprenditoriali che hanno avuto successo di giovani ragazzi che sono riusciti a realizzare quello che avevano in testa, l'idea che avevano in testa. Poi riprenderemo a settembre e speriamo con dei laboratori invece in presenza, veri e propri laboratori, per questo poi vi informeremo sulla pagina di Flash Giovani. Per introdurre la puntata dedicata ai idee imprenditoriali che hanno funzionato e hanno funzionato bene, volevo presentarvi uno sportello che sempre in co-progettazione con un'associazione, con Acli, realizziamo due volte al mese presso l'Informa Giovani prima che lo chiudessimo per il lockdown e in questo momento e fino a che l'Informa Giovani non sarà aperto, questo sportello viene realizzato con degli incontri Skype. Vi mostreremo, vi mostrerò le slide che va preparato il consulente dello sportello, Davide Gubellini, lui ve li avrebbe avrebbe spiegato le slide con dei commenti sicuramente illuminanti per voi, io sarò molto meno brava di lui, ma vedrete che Davide ha pensato un po' all'ABC dell'imprenditorialità, è un po' quello che lui fa nei suoi appuntamenti, spesso arrivano ragazzi che hanno un'idea in testa e non sanno proprio da dove partire, non hanno pensato proprio all'ABC, per cui prendete queste slide che poi saranno pubblicate nella pagina, saranno caricate nella pagina dedicata a questo incontro, come un suggerimento di percorso che un giovane può fare quando ha un'idea in testa e la vuole realizzare, un'idea imprenditoriale e come vedete lui parte proprio da un'autovalutazione pensando a che background avete, che studi avete fatto, che attitudini io sento d'avere e che cosa desidero fare, cosa mi piacerebbe realizzare. Questa diciamo è la parte soggettiva su cui riflettere. Nella seconda parte invece vediamo come questa mia base può essere arricchita da delle opportunità che io posso trovare, ad esempio quali corsi professionali io potrei seguire per realizzare questa mia idea imprenditoriale. Adesso ce ne sono tantissimi anche online e quindi anche nonostante il momento particolare posso trovare un'opportunità perché senza spostarmi di casa io posso approfondire e arricchire quello che è, quelle che sono le mie competenze. Quindi sia quelle, quindi posso verificare quali corsi possono aiutarmi a formarmi e anche cosa posso io studiare da autodidatta. Se voi andate sull'home page della pagina dell'home page di Flash Giovani c'è sempre un post, un articolo sui corsi professionali gratuiti per chi è inoccupato e quella è una buona opportunità per tutti i giovani che mi danno sia delle hard skill come si dice ma anche delle soft skill quali sono quelle competenze trasversali che io posso sviluppare dalla capacità di lavorare in gruppo, se sono capace a pianificare, se sono capace a prendere delle decisioni, come posso comunicare in pubblico e se soprattutto sono capace a resistere alle difficoltà e allo stress. Quest'ultima qualità per chi volesse realizzare un'idea imprenditoriale penso che è fondamentale. Diciamo che questa è la parte soggettiva di riflessione su come io mi approccio e come io sono. Davide vi vuol fare riflettere anche su quello che invece le condizioni oggettive che io mi trovo a incontrare nella realizzazione della mia idea imprenditoriale. Quindi a parte il curriculum vitae che io posso avere anche l'analisi di quello che è il mercato di riferimento. Quindi rispetto all'idea che ho dove mi posiziono all'interno del mio quartiere, della mia città, del mio settore di attività, del settore di attività che ho in testa per capire come vado incontro alle esigenze del mercato o se c'è un'esigenza di mercato a cui io posso rispondere con la mia idea. La quarta slide che lui ha realizzato vi fa riflettere su invece qual è il progetto della mia impresa. È un'attività che può essere occasionale, individuale, invece è un'attività che io posso realizzare creando una società con persone o società di capitali. Diciamo che queste due ultime slide prendono in esame proprio la parte oggettiva dell'idea imprenditoriale, non più soggettiva. Se passiamo all'altra, l'altra riflessione è sulle risorse finanziarie che io posso avere già di mio, quelle a cui io posso accedere tramite eventuali soci e quelle che mi possono arrivare da bandi istituzionali, prestiti bancari o raccolte fondi. E la cosa più importante di tutti è fare una riflessione sulla sostenibilità dell'impresa che io ho in testa. Quindi i costi per la realizzazione di questa mia impresa, quelli che sono i ricavi che mi posso aspettare per capire se ci sono dei margini e la mia impresa è sostenibile. Questo è un po' quello che Davide dice sempre, l'ABC dell'idea imprenditoriale. Voi potete chiedere una consulenza gratuita andando alle pagine di flashgioveni.it, sportella autoimprenditorialità, o al tutor online fare impresa. In questo momento lo sportello fa delle consulente tramite Skype e quindi scrivendo, compilando il form che ci sono su queste due pagine vi risponderà Davide e vi proporrà un appuntamento. Adesso lascio la parola invece a chi l'idea imprenditoriale l'ha realizzata. Eccoci, grazie mille Novella, poi ritroverete tutte le slide verranno caricate, quindi per chi volesse ricontrollare o si fosse perso l'inizio della live. Sì, noi appunto vogliamo raccontare sei realtà, quattro realtà scusate, che di una passione ne hanno reso un lavoro, comunque ci stanno provando e quindi insomma inizierei con Federico di Birra Bellazzi. Federico? Non ti sentiamo? Ecco, avevo messo il mutuo al microfono. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sì. Sì, io sono Federico di Birra Bellazzi, noi abbiamo aperto un micro birrificio artigianale a San Lazzaro. Siamo qui da 2016, 2017 in realtà, a cavallo, però prima abbiamo un altro percorso, sempre che è il prequel, diciamo, del progetto. Sì, per raccontarci, noi siamo, cioè Birra Bellazzi è un mostro a due teste, fondamentalmente, tutto nasce in casa tra gli amici dell'università e in particolare tra me e Alessandro Sanna, che è il mio socio. Io sono un chimico industriale, lui è un ingegnere edile e nel nostro percorso formativo, così anche professionale, a un certo punto abbiamo avuto un piccolo stop dovuto, cioè il rallentamento dovuto, che poi hanno avuto molti, dovuto al fatto che il mercato sia dell'edilizia, un po' che anche il mio, che è chimico, avevano un po' di scossoni. Noi cercavamo di parlare delle soluzioni di questo problema insieme, con gli amici, gente che faceva avvocati, ingegneri gestionali, eccetera, e vedevamo, a un certo punto ci accorgiamo che quello che era il centro di tutte le discussioni, cioè il centro fisico, era una birra, cioè parlavamo con una birra in mano. Iniziamo a pensare che questo, diciamo, questo intrattenimento, che era un fluidificante sociale, potesse essere in realtà la soluzione a un po' quello che poteva essere il futuro. All'epoca facevamo un po' birra in casa, così, senza belleità, e abbiamo iniziato a pensare che questo potesse essere in realtà un progetto più importante, quindi, visto che abbiamo parlato di formazione, abbiamo pensato di iniziare formandoci. La prima cosa che abbiamo fatto, diciamo, abbiamo approfondito ancora di più la nostra conoscenza della birra e poi la nostra conoscenza del mondo dell'imprenditoria della birra e siamo andati all'Università di Udine a fare un corso tecnico-gestionale per imprenditori della birra. È uno dei pochi corsi dedicati proprio a un settore, cioè alla parte gestionale, imprenditoriale del settore birra e da lì siamo ancora qui. All'inizio abbiamo... ...fuori dall'esperienza professionale di tutte, le formazioni di tutti. E l'abbiamo portato in banca, dove abbiamo avuto la prima reale sorpresa della vita di un imprenditore, probabilmente. Ci hanno detto, queste parole dovremmo scriverle, non so, tipo l'ingresso del birrificio. In Italia non si finanziano idee, si affitta denaro. Per cui, bello il business plan, fantastica l'idea, ben costruito, studio del mercato, però se avete casa vi diamo i soldi, se non avete casa avete solo una buona idea. Ve ne diamo molti di meno, forse non ve li diamo. Per cui abbiamo deciso di saltare le banche e lavorare con quello che avevamo in tasca. E abbiamo iniziato un progetto che in realtà si appoggiavamo da altri, fondamentalmente producevamo da altri. Quando abbiamo testato così il brand, abbiamo testato le idee soprattutto produttive, abbiamo visto se quello che avevamo in mano, nel bicchiere, non piaceva soltanto a noi e magari a mamma e a papà che ti dicono sempre che va tutto bene, ma piacevano a qualcuno in più. E questa birra che era nel bicchiere in realtà iniziava a funzionare, piaceva a qualcuno in più, l'idea del brand, l'idea di quello che ci avevamo costruito intorno, il nome e tutto quanto funzionava. Tra l'altro il nome è nato dall'idea Bellazzi, è nato dalla necessità di trovare un nome collettivo, è mio e di Alessandro. E in quel periodo un nostro amico stava a New York e lui è cresciuto così nel nord del Lazio e diceva a tutti i new yorkesi Bellazzi e tutti lo chiamavano Bellazzi. Questa idea dell'essere un deficiente, però essere un professionista, per cui lui comunque era un architetto, un designer, era un po' la nostra idea di impresa, cioè non perdere la propria origine, non perdere la propria idea e magari migliorare, diventare forti, professionalmente magari preparati e capaci, ma al tempo stesso non perdere quello che si è. E quindi Bellazzi è nato intorno a questo e all'epoca appunto abbiamo iniziato a far girare questo nome, il nome funzionava, funzionavano soprattutto, le birre piacevano e a un certo punto siamo tornati in banca con un minimo di curriculum imprenditoriale e abbiamo avuto il finanziamento che aspettavamo per costruire quello che oggi abbiamo. È un impianto abbastanza, cioè diciamo di media grandezza nel mondo della birra artigianale oggi e ha una parte vendita sul posto che adesso in questo momento del coronavirus è un pochino in questa fase, in questa fase attuale ci aiuta molto perché ovviamente pub, distribuzione, eccetera, sono un po' fermi, noi vendiamo qui tutto sul posto. Adesso vedo che sta avvenendo giù il diluvio per cui diciamo è finito un problema, ne sta iniziando un altro, però va abbastanza bene. L'investimento iniziale noi lo pensiamo molto più piccolo nonostante il business plan, alla fine chiave in mano è un progetto molto oneroso. Adesso, insomma, cifra precisa, euro meno, euro più, insomma, siamo sui 500 mila euro aprire un birrificio. Insomma, abbiamo costruito col tempo, forse la partenza con le banche contro è stato il vantaggio perché siamo partiti più grandi, all'epoca saremmo partiti più piccoli, in realtà con, diciamo, la partenza in corsa siamo partiti con un po' di volano economico, eccetera. Per quanto riguarda la professionalità, noi abbiamo cercato sempre di crescere molto da autodidatti, ma abbiamo poi, alla fine, ci siamo formati anche abbastanza continuativamente, sempre, durante questo periodo. Prima di chiudere, di aprire questa connessione, stavo facendo un corso online con l'associazione Unbirrai sulla produzione del mosto, perché nonostante uno lo faccia da tempo, tecnologie normative, insomma, non ci si ferma mai. E ovviamente un'altra forma molto importante, secondo me, per quello che il nostro progetto è di conoscenza, sono i lavoratori, noi crediamo che la conoscenza derivi anche dalle persone, per cui, non solo dai libri, cioè dalle persone, diciamo, direttamente, per cui le persone che lavorano con noi sono persone che aggiungono qualcosa a questo progetto, le scegliamo perché in qualche modo sono complementari a noi e a volte insegnano più di quanto imparano, nonostante non sempre abbiano un ritorno economico proporzionale, completo a questo, perché spesso i tirocinanti vengono dalle scuole, per esempio, di formazione e nella scuola imparano cose che sono all'avanguardia e che noi ancora non stiamo studiando, mentre loro ce l'hanno già in mano. Io questa cosa l'avevo testata prima, quando ero tirocinante, sapevo di sapere più delle persone che mi davano lavoro e oggi la sfrutto, in modo non negativo, nel senso che queste persone poi dopo con noi si formano per altri aspetti, è uno scambio e per adesso, per quel piccolo che possiamo, assumiamo, formiamo, cioè le persone che valgono sono sempre rimaste e quando hanno deciso di andarsene, a volte per aprire altri birrifici, a volte per altri settori. Io non so da quanto tempo ho già occupato così. Non lo so. Sono un po' logorroico, dicono. Sono 17 e 20, ma in realtà comunque io la cosa che volevo dire è che se qualcuno ha delle domande possono scriverle direttamente nei commenti della live, quindi se Federico rimani con noi magari arriva qualche domanda e ve la rigiriamo dopo. Dico solo una cosa, le domande non troppo lontano, perché siccome sono in un birrificio non so fino a quando posso rispondere correttamente a tutto. Resteremo la tua resistenza alla birra, vediamo. Allora io passerei a Claudio, se ci vuoi raccontare la vostra esperienza come SMK Factory. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Insomma, è bello parlare della propria storia. Anche sarebbe stato molto più bello in un contesto in cui si riesce a scambiare effettivamente dubbi e preoccupazioni più da vicino, insomma. Ma ci adattiamo anche a questa forma elettronica, digitale, e cercherò di tenere un po' la linea dei molti punti che ci avete mandato appunto come domande, anche se probabilmente appunto servirebbero del tempo ancora più ampio. Sì, mi fa piacere appunto raccontare la nostra storia perché rispetto a un discorso di produzione video forse è una storia particolare ma che in realtà ha comunato tante realtà, soprattutto nell'ambito bolognese, che è il fatto appunto di raccontare una storia collettiva. Cioè molte realtà di Bologna negli anni passati, noi siamo una realtà che è nata diciamo nel 2009-2010 e si è consolidata con il suo primo film nel 2011, Tomorrow's Land, che è stato un po' il nostro primo lungometraggio. In quel tempo appunto c'era un grande desiderio di fare documentario, fare cinema, raccontare la realtà, rappresentarla e c'era anche molta voglia di mettersi insieme collettivamente. Credo che appunto adesso le sfide che ci vengono poste da un presente, per cui è strano trovarsi a parlare di imprenditorialità nel cinema adesso quando i cinema sono chiusi o comunque non si ha una prospettiva chiara effettivamente di quali saranno anche i modi, le soluzioni di affrontare quella che comunque per noi, per l'industria culturale, è una situazione davvero mai vissuta. Ma cerchiamo di farlo con ottimismo e probabilmente sarà anche una delle cose di cui potremmo magari anche parlare con chi ci segue. Dicevo appunto la risposta di provare a costruire un gruppo collettivo di anche autoformazione in cui le competenze vengono considerate delle cose che si affinano certo con degli strumenti e da questo punto la realtà Emilia Romagnola per il cinema e i bolognesi ha sempre fatto molto, ma anche con una pratica che permetta di sperimentare, di confrontarsi, di unirsi e di avere delle visioni comuni. Ecco, SMK fondamentalmente è nata così, è nata dal desiderio di fare dei film che sono degli oggetti strani perché sono delle cose che durano quell'ora e mezza, però ci lavori un anno, un anno e mezzo, ci lavori tanto, hanno delle spese spesso di produzione molto elevate e quindi sono un oggetto culturale a cui bisogna dedicare non soltanto tempo, energia eccetera, ma che necessitano anche un'organizzazione da parte delle persone che ci lavorano insieme, no? E questa è stata un po' la nostra intuizione dalla prima volta in cui abbiamo realizzato un film insieme, appunto 2011, Tomorrow's Land, era un film sulla Palestina. Da lì abbiamo affrontato alcune fasi, che sono state alcune fasi di riflessione, rispetto appunto senz'altro come volevamo arrivare a produrre i nostri lavori e senz'altro anche artistici di linguaggio che hanno continuato insomma a interrogarci nel corso della nostra crescita. Un passo senz'altro per noi molto importante è stato capire il fatto che fare un documentario oggi significa anche dover costruire una comunità, un insieme di persone che si interessa al tuo tema ed è anche parte chiaramente della nostra origine che viene molto dal mediattivismo, cioè i temi che vogliamo portare sono temi che ci appassionano per anche attuare una trasformazione sociale. Ecco, questo è strettamente legato a tutto il lavoro del documentarista, del fotografo in inchiesta, di tanti mestieri che si stanno reinventando adesso e che si vogliono affermare anche appunto in una maniera indipendente devono riuscire a trovare un nuovo rapporto con quello che si può definire il pubblico, quello che si può definire la gente, quello che a noi piace definire appunto la nostra comunità, non community in senso strettamente da seguito, ma proprio una comunità, una comunità con cui ci si confronta, per noi è stato molto importante, abbiamo sperimentato per, non dico senz'altro per primi, però avevamo una buona, non era ancora così chiaro come funzionasse, abbiamo sperimentato il crowdfunding sul nostro primo film e l'abbiamo continuato a portare avanti su tutti i nostri altri otto lungometraggi, quindi è un tipo di pratica che era ancora poco nota nel 2011, che poi adesso è molto utilizzata, che permette effettivamente di arrivare a delle storie produttive interessanti, rimanendo completamente indipendenti, anche riuscendo a gestire in maniera molto precisa la storia della diffusione del proprio film, insomma questo ci piace molto, e quindi il fatto che un film sia completamente per noi cedibile a delle iniziative che ci piacciono, che possiamo licenziare i nostri film in Creative Commons, che è un'altra cosa, e che abbiamo cercato di costruire proprio un'economia su questa cosa, a noi è sempre piaciuto molto. Senz'altro, come vedete, già parlare soltanto della produzione di un film è citare tante competenze diverse, nel senso citare tanti aspetti vari che vanno appunto dal sapere come muoversi dal punto di vista di capire, anche saper comunicare, riuscire a creare interesse attorno alla storia che si vuole raccontare, che è sempre una fra le tante che si potrebbero raccontare, chiaramente, ma è anche, ci sono le competenze tecniche, ci sono le competenze, quindi le competenze tecniche che vanno, ad esempio io mi occupo di audio, di tutto ciò che ha a che vedere con l'audio e con la musica, sono autore delle colonne sonore dei nostri film, però appunto anche molto tecnico è capire come funziona una realtà di produzione, come gestire le spese e questo è qualche cosa che abbiamo imparato pian piano, anche dovendo rendere conto del fatto che molte persone ci hanno sostenuto, insomma abbiamo cercato sempre di migliorare questo aspetto. in un'ottica sempre appunto, per provare a dire anche un po' come funziona il nostro gruppo, sempre di orizzontalità che per noi è molto importante, mantenere anche all'interno di un'idea imprenditoriale un aspetto di collettivo per noi è possibile, e anzi per la nostra realtà è assolutamente necessario, necessario e riuscire anche appunto a mantenere sempre dei processi di autoformazione, di ristrutturazione delle proprie competenze, nel senso che ci si scambia, il lavoro di scambio che per noi è molto importante. Per noi è stato importante anche provare a riflettere, leggevo una domanda, quali sono i problemi a cui siete andati incontro, provo a chiudere su questo, poi magari vi faccio soltanto vedere il trailer del nostro ultimo film, che era in distribuzione proprio a fine febbraio, è uscito a metà febbraio e quindi è stato interrotto nella sua diffusione da ciò che è successo, però appunto spesso, in questo caso non lo so, ma spesso i problemi possono essere anche delle cose che fanno riflettere su delle possibili soluzioni che costringono davvero a reinventarsi un po' il mondo. Per esempio si parla del problema della distribuzione sui documentari in Italia, quella che è stata la nostra risposta è il fatto di capire che noi dovevamo, se vogliamo continuare a fare film, dobbiamo porci il problema di come distribuirli, e nel 2013 abbiamo creato una piattaforma OpenDB, distribuzioni dal basso, che è proprio un tentativo di fornire uno strumento a noi indipendenti e tutti quelli come noi, quindi uno strumento anche lì aperto, collettivo, e che permette in qualche modo a tutti quanti di essere, di capire come e di partecipare alla propria distribuzione, e adesso appunto dal 2013 quando è stato creato, ormai sono passati sette anni, è uno strumento conosciuto, una realtà che comunque raggruppa ormai più di 400 documentari, e spagate centinaia di autori, quindi in qualche modo creare reti senz'altro e porsi le domande in maniera non autoreverenziale, ma quanto più collettiva, secondo me è una risposta ancora molto utile anche in questa fase, in questa fase che ci costringerà senz'altro un po' a ridefinire alcune cose, probabilmente le risposte tecnologiche sono sempre parziali rispetto a quelle che è la vitalità del mondo culturale, nel senso dire che lo streaming può essere una soluzione tecnologica nei periodi di crisi del cinema, è un discorso molto molto delicato, bisogna sempre capire come effettivamente lo si realizza, e soprattutto non perdere mai il desiderio del confronto reale, del ritrovarsi all'insieme, per noi quando appunto portiamo un nostro documentario, e facciamo tournée molto lunghe e estenuanti, proprio perché ci piace portare anche le storie che abbiamo realizzato sui vari territori, e per questo appunto chiuderei, visto che il primo giro magari lo teniamo così, con il trailer del nostro ultimo film, The Milky Way, che appunto ha avuto questa strana storia, per cui dopo tre prime molto molto partecipate a Bologna, a Torino e a Brescia, in cui abbiamo riempito le sale della Cineteca, le sale del Cinema Massimo e del Nuovo Eden di Brescia, praticamente è stato interrotto, ci sono saltate tantissime date già fissate, quindi appunto creandoci anche dei problemi seri dal punto di vista economico, su cui adesso stiamo cercando di capire se un film che è stato bloccato può ripartire a mese di distanza, noi crediamo di sì perché crediamo nel lavoro che abbiamo fatto, proprio appunto di costruzione di una comunità, che è diverso dall'idea di avere un pubblico che è molto più volubile, ma crediamo appunto che la comunità che abbiamo costruito di interesse, anche questa storia di migrazione fra Italia e Francia, siamo sulla frontiera alpina che divide l'Italia e la Francia, che è diventato teatro di migrazione di tante persone, crediamo che le storie che stiamo raccontando appassionino una comunità che riuscirà a rilanciare con noi questo film. Direi che chiudo, sono stato abbastanza vago su tante cose, quindi... Sì, ci servirebbero una live su ognuno di voi, almeno, insomma, per proponire un pochino, però... Posso condividere questo video di... Adesso c'è la parte tecnologica difficile. Vai. Andiamo prima a selezionare, benissimo, siamo pronti? Ecco, vado, eh? Sì. Sì. Non erano le montagne che ci dividevano, anzi, era proprio il discorso di essere a cavallo delle montagne che ci univa. Sapere che qualcuno è in difficoltà in montagna mobilita, nel senso che è una sorta di dovere comune, ecco, quello di intervenire. Come la solidarietà in mer Méditerranee, dove si parlano molto, perché ci sono molti morti. Qui non ci sono molti morti, ma un, è di troppo. non è vero, come la selezionare. Come la sua, come la sua. Come la sua. Come la sua. E si sta, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Allora, io farei qualche piccolo distinguo nel senso, sempre basandomi sulle domande da cui stiamo partendo tutti, perché diciamo che noi lavoriamo all'interno di un ambito che è quello dell'associazionismo culturale che è un po' diverso dall'essere impresa, nel senso ci troviamo al limite. La cosa fondamentale è che volontariamo, tra virgolette, ogni tanto lo chiamiamo così, quello che facciamo, volontariamo con le stesse energie con cui altre persone si trovano a lavorare, con la differenza che il nostro corrispettivo tempo e denaro è una cosa molto complessa. E diciamo che con Chinodromo, che è l'associazione su cui noi ci basiamo, questo problema non si è mai visto così tanto perché è nato proprio come associazionismo culturale allo stato puro da persone che hanno sempre dato quanto potevano dare. Quindi è sempre stato chiaro che le attività che si facevano con Chinodromo erano momenti di condivisione o comunque sforzi che si facevano per il piacere e per la voglia di condividere un obiettivo e quindi quello bastava. Poi abbiamo avuto una fase di mezzo in cui abbiamo gestito un locale e lì la cosa è diventata un po' più complessa, nel senso che un conto è dare quanto si può dare per l'organizzazione di eventi e appuntamenti. Un altro conto è trovarsi a dover fare delle attività che fisicamente ti prendono dei tempi fissi all'interno della settimana, come dei turni al bar, dei momenti di lavoro sull'amministrazione, dei momenti in cui c'erano da organizzare delle cose fisicamente, anche banalmente pulirlo, perché anche quello bisogna fare. Ci siamo trovati in un momento in cui, soprattutto noi di Cielo Corto, che siamo un po' la generazione giovane di Chinodromo, siamo ex tirocinanti volontari che hanno in media 15, addirittura a volte 20 anni in meno dei soci fondatori. Ci siamo trovati in un momento in cui stavamo ancora decidendo cosa volevamo fare della nostra vita, se volevamo rimanere a Bologna, quindi avere un locale in quel momento lì ci sembrava un po' una cosa che ci stava incatenando invece che lasciarci andare avanti. Quindi l'abbiamo ceduto e abbiamo iniziato a occuparci solo di cinema, perché poi il fatto di avere un locale ci costringeva a fare delle attività che con il cinema non c'entravano assolutamente niente e anche a fare della programmazione musicale e artistica che andava a spaziare in altri ambiti e non era esattamente il focus su cui volevamo rimanere. Dal 2019 abbiamo iniziato a fare anche il festival, Cielo Corto, oltre a un'altra serie di attività. Cielo Corto è nato come Rassegna nel 2015, nel 2019 è diventato festival e diciamo che la divisione tra Rassegna e festival è sempre motivo di controverse, si cerca un po' di dare delle definizioni soprattutto per questioni di bandistica e decidere appunto chi è festival e chi non è festival. Semplificando all'estremo, diventare festival vuol dire creare un evento che duri minimo tre giorni consecutivi in uno spazio fisico preciso e che metta in paglio dei premi fondamentalmente, che cerchi di creare una rete di contatti che siano sia nazionali che internazionali. Questa è più o meno la differenza tra Rassegna e festival e noi lo siamo diventati appunto nel 2019. Ora direi che sfido qualunque festival nel mondo a dire che fin dalla prima edizione è riuscito a pagare tutte le persone che ci lavoravano nel modo corretto e quantitativamente corretto soprattutto rispetto al grandissimo impegno che un festival fa mettere in campo. E direi che è un obiettivo che noi ci fissiamo con questa seconda edizione. Con la prima abbiamo potuto contare su qualche risparmio che l'associazione aveva da parte fondamentalmente perché era un salto nel vuoto. Quindi noi abbiamo avuto questa fortuna di aver risparmiato qualcosa soprattutto di essere usciti molto positivamente dall'esperienza del locale con qualcosina da parte, cosa che non era scontata. E quindi abbiamo potuto autofinanziare la prima edizione del festival perché anche lì vincere dei bandi alla prima edizione è, se non complicato, quasi impossibile. Noi abbiamo provato e perso il bando festival della regione più o meno coscientemente nel senso che per poter partecipare a quel bando bisogna fare un preventivo come primo anno di attività di 20.000 euro minimo. Cosa che noi non ci siamo sentiti assolutamente di fare perché poi per quel tipo di bando l'ente pubblico ti dà la metà. Quindi tu, associazione culturale o comunque soggetto che lo provi, devi poter garantire che l'altra metà la metti tu di tasca tua. E se qualcosa dovesse andare storto, per cui per esempio la rendicontazione che tu fai non corrisponde ai canoni del bando e quindi prendi ancora meno di quanto ti aspettavi di prendere, a quel punto proprio tutto quello che deve andare a pagare le spese del tuo festival deve uscire di tasca tua. Quindi ci siamo trovati in difficoltà con quel bando, abbiamo deciso di fare una prima edizione totalmente autofinanziata e direi che è andato molto bene. Ne abbiamo speso quanto potevamo spendere. Siamo andati leggermente sotto quello che dovevamo, ma secondo me è normale, anche avendo lavorato tutti noi in altri festival, perché poi tutti noi di Cielo Corto abbiamo lavorato nei principali festival di Bologna. Il cinema ha ritrovato Biography My Future Film Festival, quindi avevamo un po' di esperienza di festival tutti noi prima di iniziare a fare il nostro. E adesso invece come secondo anno di attività ci poniamo l'obiettivo di pagarci tutti quanto ci dobbiamo pagare nel modo giusto e corretto, e di riuscire appunto a fare un festival più grosso finanziato fondamentalmente da soldi pubblici, che poi ovviamente dovremo anticipare perché come si sa i finanziamenti entrano dopo, quindi anche questo è importante sapere che quando si pensa di creare un evento del genere ci vuole qualcosa da parte, bisogna avere un capitale di partenza che può essere messo in campo, che può essere speso e poi al massimo qualcosa rientrerà, però si deve essere disposti ad avere qualche piccola perdita e a poterla compensare. Quindi ecco questo. Va fatto però, va fatto perché da qualche parte bisogna pur partire. Come vi dicevo, noi abbiamo un po' di esperienza di festival, sia in cui abbiamo lavorato, sia che abbiamo frequentato nel corso di questi anni, anche quando eravamo a Rassegna, siamo stati invitati e ospitati in quasi tutti i festival di cortometraggi dell'Emilia Romagna, ne abbiamo frequentati tanti e confrontandoci con le altre realtà appare proprio chiaramente che l'ambito festival di cortometraggi è un ambito in cui pochissimi riescono a pagarsi, sono quasi tutti amatori, però riteniamo che va da fatto, nel senso che uno dei nostri obiettivi è quello di equiparare il cortometraggio a lungo come formato e portarlo un po' fuori da questa opinione che è tutta italiana, che il cortometraggio sia un prodotto di nicchio o comunque qualcosa che esce dalle scuole di cinema, che uno fa il cortometraggio e poi quando diventa grosso, tra virgolette, allora fa il lungometraggio e basta, abbandona questo formato per sempre. Invece non è così, è un formato che ha semplicemente altre caratteristiche e per cui secondo me bisogna essere forse a volte ancora più bravi perché condensare una storia a livello di scrittura, stanno sotto i 20 minuti e renderlo comunque fuoriero di un messaggio completo e concluso, spesso è più difficile che farlo in un'ora e mezzo o due. Vedo Claudio che annuisce e penso sia d'accordo con me. Dicevo va fatto, va fatto perché i festival per diventare grossi, per diventare competitivi e per diventare anche importanti piattaforme di lancio da qualche parte devono pur partire. Servono anni in cui si fa la gavetta come in tantissime altre cose e poi forse dopo 10-15 edizioni si riesce ad essere grossi. Quindi bisogna iniziare presto, non perdersi d'animo e fare le cose fondamentalmente perché altrimenti non c'è modo e noi su questo siamo sempre stati abbastanza determinati e vedremo come va. Adesso quest'anno stiamo provando tanti bandi, speriamo che ci vadano bene perché appunto l'obiettivo è quello di ingrandire il festival, attirare più ospiti a Bologna sempre che si potrà alla fine di novembre e se lo dovremo fare online, ipotesi che stiamo ventilando sarà un po' tutto da ripensare, però abbiamo visto che i festival che sono prima di noi sembrerebbe stiano decidendo di essere live. Abbiamo visto che due tra i nostri festival preferiti che vengono fatti d'estate che sono Lago Film Fest in Veneto e Concorto in Emilia Romagna avranno le loro edizioni regolari, abbiamo visto che Venezia ci sarà, abbiamo visto che anche il cinema ritrovato si sposterà a fine agosto e ci sarà anche il cinema ritrovato, quindi direi che per ora non ci facciamo la testa e diamo un po' per scontato che a fine novembre, l'ultimo weekend dal 25 al 29 quando sarebbe il nostro festival, noi saremo tranquilli e potremo fare quello che dobbiamo fare, ovviamente in caso contrario dovremo ripensare tutto quello che avevamo in mente e fare la nostra edizione online, ma appunto è una cosa che stiamo già tenendo presente anche guardandoci intorno e sperimentando alcune cose con Kinodromo perché poi in questi ultimi mesi abbiamo fatto delle cose online, delle mini rassegne anche in collaborazione con la piattaforma OpenDB di cui ci parlava Claudio, abbiamo fatto una rassegna tutta al femminile a maggio che è andata molto bene e così ci siamo sperimentati anche noi sull'online, su cosa vuol dire cercare di creare un contatto e una comunità con il nostro pubblico non trovandoci faccia a faccia. Bene, grazie mille, ricordo appunto per chi si è collegato dopo che per chi fosse interessato ad approfondire troverai link poi nei commenti e può fare delle domande, abbiamo già due domande che sono arrivate in privato quindi poi dopo Serena ve le giro e vediamo un po' chi se la sente di rispondere. Allora, Serena di Follow the Books, se ci sei, ok, eccoti. Allora, intanto grazie per l'invito, io mi chiamo Serena di Battista e curo un blog letterario che si chiama Follow the Books, racconti di una lettrice in viaggio e quindi parto da una realtà un po' diversa da quelle che avete raccontato qui è un blog letterario, Follow the Books, che nasce alla fine del 2017 in realtà un po' per gioco e spinto da una grande curiosità e un po' per un senso di rabbia nel senso che io ho lavorato per molti anni in una libreria ed era un lavoro che mi piaceva tantissimo poi sono sempre stata di me una grande lettrice, una secchiona, io devo studiare, devo leggere, devo conoscere e quando ho perso il lavoro ho continuato a cercare nell'ambito delle librerie o comunque in qualche ambito che fosse culturalmente vivace e non trovavo nulla e quindi ero molto arrabbiata perché per vivere dovevo lavorare non trovavo dei lavori che mi soddisfacevano e non ero disposta a lasciare questa passione fortissima e la voglia di esplorare questo mondo inoltre negli ultimi anni nascono e si sviluppano delle figure professionali molto interessanti i book blogger, i book instagrammer, tutto questo mondo che ruota intorno al libro con anche la crescita di figure professionali che si stanno definendo che non sono ben chiare, si stanno evolvendo quindi mi sono lanciata in questo progetto e avevo delle idee abbastanza chiare nel senso che sapevo che partiva da una passione quindi che all'inizio sarebbe stato tutto un metterci nel senso investimento di denaro, di tempo, di energie che appunto toglievo la mia sfera reale di vita d'altro canto però ero anche abbastanza sicura e decisa su un approccio che volevo il più professionale possibile non volevo che fosse la ragazza col blog, la ragazza che parla di libri cioè io volevo andare in una direzione quindi le prime cose che mi sono venute in mente di fare sono state affidarmi a dei professionisti quantomeno per costruire fisicamente il sito per esempio perché io sono a zero in tecnologia distruggo computer come è successo poco fa o per esempio una grafica che ha curato il logo e tutta la parte appunto grafica del progetto ho seguito un corso di scrittura SEO oppure quello sullo sviluppo dei social perché anche lì è tutto un mondo insomma mi piaceva un approccio che fosse abbastanza professionale e mi sono lanciata in questa avventura e in realtà già dai primi mesi sono arrivati dei risultati abbastanza sorprendenti quello che a me dispiaceva lasciare del mondo libreria chiamiamolo così era il fatto che spesso sono nati dal rapporto che avevo con i clienti e con le clienti sono nate delle relazioni che partivano dal sei molto bravo a comunicare oppure mi fido di quello che dici su un libro quindi lo prendo che poi si approfondivano e si spalancavano mille porte e sono in realtà in piccolo è poi quello che succede sui social quando si forma una community quando si forma un gruppo di persone che condividono un interesse, una passione e vanno tutti verso una direzione per me l'obiettivo della prima fase del progetto era arrivare ad avere una piattaforma abbastanza stabile che più che altro accendesse la curiosità delle case editrici per svariate collaborazioni e queste situazioni si sono verificate abbastanza velocemente e poi mi piaceva anche molto il fatto di agganciare dei contatti che avessero appunto a che fare con le realtà sul territorio quindi i festival letterari piuttosto che andare a scoprire delle librerie in città, fuori città, in viaggio proporre delle collaborazioni con le scuole proporre delle collaborazioni con dei musei e tutto questo si muove, si muove abbastanza bene il lavoro da fare di formazione è tanto ed è importante perché almeno nel mio caso insomma non essendo una persona tecnologica è fondamentale capire come funzionano gli strumenti che si usano capire come si sta trasformando la comunicazione oggi che è la chiave di tutto ma anche banalmente saper scrivere un articolo che faccia funzionare un sito in maniera leggera e funzionale e che non soltanto sia volevo scrivere una cosa e l'ho scritta quindi tutto questo percorso di formazione per me è ancora assolutamente attivo e cresce e cammina con il progetto dal blog sono nate delle collaborazioni molto interessanti che spaziano da banalmente anche il rapporto che si crea con le case editrici e quindi questa possibilità di esplorare il mondo editoriale anche prima che il libro arrivi in libreria e poi anche, non so, eventi, incontri con realtà indipendenti che possono essere legate a dei festival piuttosto che a delle librerie enti che si occupano di cultura insomma c'è molto da fare e come categoria, tra virgolette, abbraccia l'ambito culturale e una delle cose che mi piacerebbe molto approfondire per Follow the Books è la possibilità di sviluppare un percorso di formazione che possa portare una figura come la mia quindi un book blogger o un book influencer ora decidiamo poi qual è la casellina da spuntare però come si può sfruttare per esempio questo ruolo per far avvicinare le persone che non leggono al mondo della lettura per far avvicinare magari, non lo so, i ragazzi o per suggerire degli strumenti più freschi, più nuovi nelle scuole e mi piacerebbe molto andare in questa direzione il blog chiaramente ha un sito su cui leggere gli articoli e i contenuti fissi ma ha una grandissima vita sui social che oggi sono indispensabili si è spostato di più su Instagram rispetto a Facebook per motivi abbastanza random nel senso che probabilmente il social calza meglio la natura del blog perché forse su Instagram c'è più possibilità di storytelling e le collaborazioni arrivano le contaminazioni anche e quindi questo è un progetto che mi piacerebbe moltissimo portare avanti e trasformare pian piano in quello che magari sarà il mio lavoro e non una collaborazione o un introito random che subentra ad altro mi piacerebbe trasferire tutto la difficoltà sta nel fatto che appunto finora è un percorso collaterale e quindi ci sono delle cose che lo spostano come il grande problema che abbiamo vissuto tutti negli ultimi mesi e chiaramente anche lì mi sono fermata e ora è da ringranare, da ripartire però più o meno il progetto è questo ok grazie Serena è interessante soprattutto perché appunto sono delle attività che appunto per chi è diventato un lavoro per chi sta cercando di renderlo tale insomma hanno dei background molto diversi quindi questo è un elemento che secondo me è molto interessante quindi anche per essere un po' di ispirazione per chi magari non ha il coraggio di buttarsi invece prendere ecco da un licenziamento trarne un bene o avere la lucidità come ci diceva Maddalena anche di capire magari che con il posto fisico crea dei legami che magari poi possono limitare su tutta una serie di cose quindi secondo me questo è un elemento molto interessante vi giro le domande che sono arrivate allora la prima è perché secondo voi è opportuno fare imprese in Italia dove le imprese trovano ostacoli di ogni genere? domandina soft chi se la sente di rispondere? avete tutto in muto quindi ok ecco io mi sono domandata e perché non se ne può fare a meno perché non si può rimanere sempre fermi perché se arriva dei momenti in cui bisogna guardarsi allo stocchio e dire vabbè qualcosa dovrò fare cos'è che mi riesce bene cos'è che mi piace su cosa ho investito fino ad adesso cosa posso fare e poi arrivate a quel punto lì qualcosa bisogna rischiare credo ci siano persone che sono predisposte per questo altre persone che invece magari apprezzano di più la tranquillità della routine di un lavoro dipendente qualsiasi ma non lo dico in modo distreggiativo o come se una cosa fosse migliore dell'altra secondo me ci sono semplicemente delle attitudini c'è chi ha voglia di rischiare perché gli dà qualcosa in più pensa che arricchisca la sua vita c'è chi non ne ha voglia e può fare dell'altro però ecco secondo me per alcune persone è inevitabile qualcuno vuole sì però voglio dire qualcosa anch'io sul discorso appunto perché fare impresa in Italia cioè interpreto la domanda come perché non andare da qualche altra parte dove è più facile dove è più facile chissà nel senso che effettivamente vabbè chiaramente ci sono regole e sostegni diversi in diversi paesi ecco quello che a me su cui piace riflettere è anche il fatto che effettivamente quello che siamo noi è anche veramente il prodotto molto delle nostre storie di crescita e delle nostre relazioni che abbiamo coltivato sempre nel corso degli anni da prima all'università all'università a dopo io vedo che comunque le storie e i legami appunto in quella idea di creare qualche cosa che sia davvero reti di persone che riescono a rimuovere un po' questo il clima culturale italiano che forse non è nel momento proprio più brillante della sua storia e quindi è una bella sfida questa perché fare impresa culturale in Italia adesso è perché effettivamente fa parte di è un tentativo di dare una risposta a una domanda che ci ha sempre emozionato emozionato e anche al senso di tante storie di cui abbiamo fatto parte in passato e di cui facciamo parte oggi questa è anche un po' la mia la mia visione e come seconda domanda così vediamo se magari se stuzzica Serena e Federico perché scusate siete in quattro quindi è un po' più difficile gestire farvi rispondere a tutti e quattro a tutte le domande vediamo allora dopo l'avvio dell'impresa quali aggiusti se ci sono stati degli aggiustamenti delle migliorie che si sono rivelate necessarie che magari inizialmente vabbè direi che questa tutti e quattro se volete chi vuole può rispondere perché talmente insomma può essere uno stimolo uno spunto se posso dico la mia secondo me fin quando uno non fa impresa non sa cosa vuol dire fare impresa e soprattutto non sa cosa vuol dire fare la propria impresa nel senso che è importantissimo e ovviamente il consiglio da dare a tutti studiare bene cosa si va a fare non confondere la sola passione con un lavoro nel senso che ovviamente avere passione nel proprio lavoro è una marcia in più però se uno ha solo passione e non pensa può rimanere un hobby ecco il nostro settore è sicuramente un settore dove il rischio che questo succeda come forse anche quello anche diciamo nel settore in tutti molti altri settori sicuramente molti di quelli di cui sono protagonisti le altre persone insomma che ci sono stasera c'è un grosso rischio perché parliamo di settori dove la passione è fondamentale il cinema i libri insomma sono molte cose che affascinano e che prendono per cui è facilissimo confondere l'idea di non posso fallire perché amo quello che faccio questo non è vero e puoi tranquillamente fallire e anzi puoi fallire di brutto spesso hanno successo quelli che passione diciamo ne hanno meno ma hanno più capacità di fare i conti per dire per cui è triste ma a volte capita se uno ha entrambe le cose forse ha una marcia in più per cui inevitabilmente rifare i conti sulla strada è importante noi abbiamo fatto i conti tante volte in questi anni diciamo l'esperienza del coronavirus è sicuramente un momento in cui tutti tutti i settori più o meno hanno avuto la necessità di reinventarsi di rifare i conti eccetera per quanto riguarda noi la cosa è molto è proprio molto evidente perché siamo iniziati con un business plan con l'idea che subito tutti ci finanziassero in realtà non ci ha creduto nessuno per cui anni dopo siamo ripartiti con i conti in tasca diversi che erano i conti di un'azienda che esisteva da tre anni e l'altra cosa è quello che non ti aspetti è che qualsiasi azienda tu faccia è fatta di persone oltre che di di idee di studio eccetera e le persone contano un sacco noi io credo che fare impresa oggi forse rispondo anche un pochino alla domanda di prima voglia dire anche svolgere ognuno il suo piccolo e forse ognuno con la sua responsabilità con la sua idea un piccolo servizio per tutti nel senso che ovviamente l'imprenditore prende forza da chi lavora con lui e i conti si fanno tutti insieme in modo diverso ci sono conti economici ci sono conti anche di obiettivi ecco questo è secondo me cioè noi li rifacciamo tutti i giorni i conti non perché li sbagliamo ma perché forse cioè forse anche un po' per paura di sbagliarli ma anche perché insomma cioè fare micro impresa non è una linea retta ecco per cui si sterza continuamente si evitano gli ostacoli a volte si saltano a volte si prendono in pieno insomma non so se Novella tu hai qualche appunto da fare o anche rispetto magari alla vostra esperienza insomma di confronto con i giovani se 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 c'è una paura del trovare questo lato dell'auto imprenditorialità o non lo so magari no ma in realtà ascoltando loro quattro io mi sono ritrovata nel suggestioni delle slide del nostro consulente sull'auto imprenditorialità quello di di una passione che non può essere solo una passione ma deve passare anche attraverso del attraverso l'analisi delle proprie attitudini per svilupparle attraverso la formazione che tutti quanti voi avete fatto e anche l'analisi della realtà in cui io mi voglio inserire questo mi sembra che tutti dall'esperienza di tutti e quattro è venuto fuori e quello che mi ha in realtà non stupito ma colpito piacevolmente è questa idea che tutti avete tutti avete sul creare una comunità o della propria azienda ma inserirsi in una comunità che risponde a voi alle vostre suggestioni e alla vostra azione di impresa che è fondamentale e penso che siano degli spunti di riflessione molto interessanti per chi in realtà ha un'idea che vuole rendere un'idea di impresa quello che confrontandomi confrontandomi con il nostro esperto e che molti arrivano proprio senza l'ABC senza questo percorso di capire chi sono cosa posso fare cosa mi guida qual è il mio obiettivo e l'analisi della realtà in cui io mi voglio inserire per cui anche il fatto che quel fare i conti continuamente per capire se ce la posso fare la mia idea è sostenibile e può darmi da vivere non solo a me ma anche alle persone che coinvolgo è proprio cioè voi avete proprio declinato veramente l'ABC dell'autoimprenditorialità che il nostro consulente tenta di spiegare ai ragazzi che arrivano lì magari con una bella idea senza tutto questo percorso infatti un'altra domanda che è arrivata è per voi quattro quindi che consigli dareste a chi vuole iniziare un'attività di questo tipo non proprio la vostra magari ma insomma dice per chi vuole avviare un'impresa ma è titubante se c'è qualcosa che vi ha attivato vi ha aiutato o meno secondo me il primo consiglio è lavora dentro il tipo di impresa in cui vorresti lavorare dentro il tipo di impresa che vorresti creare lo so che il problema della nostra generazione e della mia soprattutto voi altri tre vi vedo forse 5-6 anni più di me forse 10 addirittura è questo problema che ci troviamo in un mercato del lavoro per cui dobbiamo per forza fare dei tirocinni e non è bello non è bello non è gratificante non ci permette di affrancarci dai nostri genitori però è un po' l'unica possibilità che abbiamo e secondo me per arrivare a fare qualcosa in autonomia bisogna passarci per forza soprattutto perché una volta se volevi imparare a fare un mestiere andavi a bottega e adesso se vuoi imparare a fare un mestiere fai un tirocino quindi così è io per esempio mi ero data il tempo dell'università come tempo massimo entro cui esaurire la mia dose di tirocini poi in realtà siamo andati un pochino oltre nel senso che io mi sono lavorata l'anno scorso quindi diciamo che forse qualcosa così non è andato storto ma direi che questo covid basta come scusante o come cosa cui appigliarsi per dire che in questo ultimo anno alcune cose che potevamo fare non le abbiamo fatte secondo me però finché si è giovani finché si può finché per fortuna i nostri genitori ci possono dare una mano perché poi questo di fatto è che per poter fare dei tirocini dobbiamo avere dei genitori alle spalle che credono nelle cose che stiamo provando anche se magari non lo so non le capiscono o non sono la strada che la loro generazione avrebbe percorso finché possono dobbiamo farlo secondo me perché appunto dobbiamo imparare delle cose perché ci sono dei percorsi soprattutto nell'ambito culturale che nessuno ti insegna cioè come ci dicevamo prima io Cecilia che dicevamo dove ci siamo conosciute ci siamo conosciute al CITEM il CITEM per chi non lo sapete è la magistrale di cinema del Dams e non so se sapete che tantissime persone vengono a Bologna a fare il Dams pensando di uscire di lì e di poter essere registi o comunque di imparare un mestiere no non è così il Dams è da tutt'altro e forse non ti dà niente nel senso che al termine di questo percorso non so tu Cecilia è d'accordo con me amarissimo però credo che abbiamo imparato soprattutto ad avere una forma mentis e ad approcciarci al cinema all'arte con una grande libertà cosa che non è scontata io l'ho proprio visto il fatto di aver fatto un percorso nei miei anni universitari di aver rivalutato delle cose di aver passato quel periodo che tutti noi passiamo in cui si ha la puzza sotto il naso e si ritiene grande cinema ma solo certo cinema e poi si capisce che invece tutto può essere grande cinema anche la cosa più popolare perché è collegata a un momento storico un momento sociale a una cultura particolare quindi si impara ad approcciare con un altro modo però in un altro modo però ecco il Dams che è la principale facoltà artistica in Italia non ti insegna niente non ti insegna a organizzare degli eventi non ti insegna a entrare nel mondo della cultura non ti insegna come fare per far fruttare le tue conoscenze l'unica cosa che puoi fare uscito da lì e tra l'altro se ti sei giocato bene il tuo percorso cosa che non è il mio caso non so il tuo andare a insegnare però ecco cattedre di cinema in Italia non esistono potevamo insegnare solo storie dell'arte ma anche lì non è così semplice insomma ci sono facoltà che è necessario fare per fare dei percorsi poi che però non te li insegnano e quindi secondo me ecco andare a bottega tra molte virgolette è l'unico modo per per non so se qualcuno vuole rispondere a questa domanda se no ho una domanda specifica per Serena che mi è arrivata che è come è nato il tuo viaggio in Islanda e anche le collaborazioni con le case editrici rispetto a questo progetto allora il viaggio in Island è nato prima del blog in realtà nel senso che appunto io avevo perso il lavoro ed ero in una fase di pazzia totale perché mi ritrovavo di nuovo a dovermi reinventare cioè io sono uscita dall'università e mi è stato detto ah vuoi fare la traduttrice è bello però non puoi ciao poi hai provato ad inserirti nel mondo del lavoro e ti è stato detto no c'è la crisi aria poi ho trovato diversi lavori li ho persi non avevo mai non riuscivo mai a mantenere questo senso di stabilità che ci era stato raccontato perché comincia ad avere un'età ti dovresti trovare il lavoro fisso la casa la vecchia storiella e quindi avendo perso di nuovo il lavoro dopo tanti anni di stabilità mi sono detta io non ce la posso fare e stavo perdendo un po' la bustola e quindi mi sono detta hai due possibilità o ripiombi nella disperazione e continui a fare la mina vacante oppure guardi un attimo la storia da un'altra prospettiva che è non sei mai stata così libera negli ultimi dieci anni della tua vita mai puoi fare quello che vuoi hai dei risparmi da parte vai a fare quello che vuoi e quindi le cose sono state due uno ho detto io voglio andare in Islanda e sono partita e la seconda cosa è stata io voglio iniziare un progetto nuovo che deve essere mio che devo deciderlo io che mi deve seguire che mi deve accompagnare e che deve diventare un lavoro perché ho bisogno di essere padrona di quello che devo fare e la prima collaborazione è nata a cavallo con l'Islanda con le case editrici perché io ho iniziato a mandare delle mail a dei contatti degli uffici stampa questa cosa ho imparato a farla quando ho vissuto a Londra ho fatto tantissime ho compilato infinite application form per vari lavori e la cosa più importante che ho imparato è che il curriculum lo possiamo mandare tutti sciorinare titoli esperienze come l'ho fatta io l'hanno fatta tante persone sicuramente meglio di me e più di me più delle mie la cosa che fa la differenza è sempre 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 la lettera di presentazione e quello che tu dici di te perché è te che vogliono conoscere non è quello che hai fatto sono laureata in lingua io come infinite altre persone e quindi mi sono approcciata in questo modo anche proprio con i contatti del blog ed è un approccio che in parte è molto piaciuto e in parte io probabilmente avevo un curriculum affidabile venivo da un'esperienza in libreria che mi sono giocata assolutamente venivo da altre esperienze di blog o letterarie o di studio che ho sfruttato e quindi ho iniziato semplicemente all'inizio a chiedere delle collaborazioni appunto su mi mandate il libro recensisco il libro base però poi si sono evolute ed è molto bello quando ti contatta una casa editrice e ti chiede di presentare un autore nella biblioteca più importante della città o quando ti chiamo un'altra casa editrice e ti dice ti rilasciamo un posto libero si può intervistare quest'autore islandese piuttosto che quest'autrice dalle farò e ci sono solo quattro posti tre sono giornalisti e la quarta sei tu è molto bello e ti ripaga del lavoro soprattutto iniziale che appunto come dicevo prima per me è stato davvero un mi ci butto cuore e portafoglio però oltre questo sono d'accordissimo con quello che diceva Federico prima e l'approccio deve essere professionale e si deve studiare tanto anche perché il rischio e forse questo risponde in parte anche alla domanda precedente è quello di non capire cosa a cosa si sta andando incontro bisogna bisogna studiare un po' nel mio caso banalmente il target ma anche il mercato quando sono i tempi giusti per inserirsi con un determinato progetto ha senso ha senso non so per esempio ora io davvero non mi sognerei mai di fare la la booktuber non conosco il mezzo sono fuori dalla fascia d'età non so parlare a quel tipo di pubblico ma lo conosco pochissimo prima di fare questa valutazione mi andrei a studiare un attimo tutto quello che riguarda questa sfera e questa è proprio una casellina piccola del pentolone libri su internet però il punto è davvero questo la passione è tutto ma anche tanta preparazione e tanto studio sia delle capacità tecniche che servono sia di quello del mondo in cui vuoi inserirti e avere delle linee guida dei progetti delle tempistiche anche è molto importante che è quello che diceva Maddalena perché altrimenti rischiamo di dire ho un sogno ho un progetto oggi lo tiro fuori domani lo rimetto nel cassetto rimane una passione ma non si concretizza mai infatti nell'ultimo incontro che abbiamo avuto che era quello sul fallimento è stato interessante perché dicevano quando ti dicono non mollare mai non mollare mai invece di diciamo una delle esperte ci diceva proprio che in realtà avere la lucidità di capire quando è il momento di mollare perché evidentemente è inutile che sbatti la testa e non vai da nessuna parte quindi quello è anche avere un po' di lucidità è vero che è la tua passione ma se non sta andando meglio prendere aria un attimo respirare e fare le valutazioni insomma di che cosa è successo faccio un ultimo giro di domande così che è arrivata adesso ve la leggo dice in realtà sono due quindi decidete a che cosa volete rispondere una è tornando indietro per chi magari ha un'esperienza un po' più più lunga che consigli vi dareste quindi se aveste saputo qualcosa come vi aiutereste e l'altra è come regolate i rapporti fra voi quando non siete d'accordo nelle realtà in cui non ci sono delle vere e proprie gerarchie vabbè Serena per te è facile io posso rispondere solo alla prima perché sono da sola quindi se non andiamo d'accordo sono io e le mie 30 personalità nascoste quindi me la gestisco tranquillamente e che consiglio mi darei tornarsi indietro di avere più faccia tosta probabilmente perché da una parte un po' per timidezza un po' per non lo so abitudine tendo sempre ad essere molto cauta a farmi mille problemi prima che si verifichino a trovare soluzioni a problemi che non sono ancora accaduti e questa cosa mi frena mi frena molto ora mi sono sciolta molto di più e vedo la differenza perché per esempio anche banalmente presentarsi a qualcuno per proporre una collaborazione forgendo un bigliettino da visita e spiegando con molta serietà quello che tu fai e non dire eh un blog sì scrivo sì leggo libri se non ti credi tu per prima perché ti dovrebbe credere qualcuno a cui stai chiedendo qualcosa o a cui vuoi proporre qualcosa per una collaborazione e all'inizio io questa cosa non la facevo perché mi vergognava a morte e poi mi sembrava sempre di disturbare di essere inappropriata e quindi finché dovevo mandare mail vado andavo tranquilla ma il contatto di persona che poi fa tanto la differenza non funzionava molto bene e quindi tornassi indietro farei molta più adesso non mi vergogno di niente cioè chiedola qualunque tranquillamente però sì forse mi direi di avere molta più fiducia a me stessa e più faccia tosta perché ti devi vendere è brutto da dire ma devi convincere quella persona che deve volere te e non qualcun altro e quindi se non ti spingi davvero tu e non non gli dai quella chiave per sceglierti perché dovrebbe farlo quella persona giusto ok faccio chi vuole procedere così vi sentiamo almeno anche se avete un commento che ci avviciniamo alla conclusione dell'incontro noi siamo 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 tanti nel senso che i due soci principali cioè io e Ale siamo i due soci principali c'è altra gente che un pochino supporta l'azienda la coordinazione è sempre difficile e non c'è un consiglio il bello di essere in più di uno è che le differenze possono essere un vantaggio o uno svantaggio e devi poter sfruttare i vantaggi e mettere davanti gli svantaggi non c'è un consiglio dipende dai caratteri di ognuno io sono un pochino più così è estroverso da alcuni aspetti ha delle caratteristiche diverse le mie le nostre differenze sono la nostra forza e sono le nostre criticità dipende dai momenti non so fare impresa con altri è peggio di costruire un matrimonio nel senso che i mutui sono più difficili da sciogliere dei matrimoni oggi per cui insomma ecco riflettete su questo è più facile sciogliere un matrimonio che un mutuo per cui prima di fare impresa con qualcuno valutate bene in più l'emotività influisce su entrambe le cose per cui valutate anche che effetto può avere l'emotività per quanto riguarda gli errori adesso ci sono errori che eviterei ci sono errori che ci sono costati per cui forse sarebbe stato il caso di evitarli piccoli e grandi sicuramente del passato la cosa che la nostra forza e forza è aver cercato di imparare dai propri errori per cui forse non averli fatti oggi ci metterebbe in una condizione di maggior debolezza non voglio essere scurile però è culo perché ci sono errori che non puoi più non ti permettono di fare un passo indietro siamo stati impardonati perché abbiamo imparato su nostra pelle ma in modo diciamo soft in modo recuperabile diciamo le cose da evitare probabilmente nel fare impresa è l'arroganza cioè essere convinti è diverso da essere arroganti essere sicuri è diverso dall'essere non so da non saper valutare i propri passi la passione non aiuta da questo punto di vista perché quando uno è appassionato fatica a vedere le proprie criticità per cui un'autoanalisi un po' così ti aiuta a evitare di commettere alcuni errori però d'altra parte un po' di un filo di incoscienza di arroganza fa in modo di avere successo cioè se uno non ha non ha adesso non mi sento arrivato per cui forse ho bisogno di un altro po' di arroganza però il concetto un filo di un'incoscienza ti aiuta a fare il passo un millimetro più grande di quanto dovresti per andare oltre quello che numericamente sarebbe il caso di fare cioè l'impresa è questo è caricarsi il rischio perché il rischio vuol dire che a volte va male per cui allacciandomi al discorso di prima l'altra cosa importante è saper dire ok sto andando alla selezione sbagliata faccio un passo indietro chiudo tutto e ho sbagliato strada non fa per me visto Cecilia il fallimento il fallimento è contemplato bisogna evitare che sia una roba drammatica però l'altra medaglia del successo insomma va considerato tra i rischi vado io vado io io se tornassi indietro mi direi di non dar retta a chi mi dice che sto perdendo tempo a chi non capisce l'associazionismo perché l'associazionismo è una cosa che credo non sia per tutti nel senso ci vuole uno spirito di abnegazione e un po' di masochismo di fondo per cui se non ce li hai non ce la puoi fare e tante persone non capiscono appunto che per imparare delle cose tu dia il tuo tempo in cambio di qualcosa che non è tangibile quindi se tornassi indietro mi direi di non dar retta a chi mi dice che sto perdendo tempo perché non l'ho perso credo spero poi vabbè i momenti di down in cui si rimette tutto il proprio percorso in discussione ce li abbiamo tutti credo ce li abbiate anche voi come ce li ho io però di base penso di non aver perso tempo e l'altra questione è che dicevo l'associazionismo non è per tutti perché il problema dell'associazionismo è che non c'è un vertice e quando si fanno delle attività insieme non c'è qualcuno che può decidere per gli altri e non c'è qualcuno che può prendere delle decisioni da solo e noi siamo un gruppo di amici prima che un gruppo di persone che lavorano insieme quindi questo rende tutto un po' complicato perché poi ci si deve trovare necessariamente a dire questa cosa questo conflitto fa parte del piano dell'amicizia questa cosa questo conflitto fa parte del piano lavorativo poi siamo quasi tutte donne quindi a volte è abbastanza pesante anche sul piano dell'emotività e di quello che viene fuori secondo me è la strada che io sto cercando di perseguire di portare avanti in questo momento della nostra storia l'unico modo è darsi dei compiti e fidarsi cioè io mi fido di te sto a che tu fai le cose per bene ti ho scelto come mio collega e compagno in questa avventura mi fido di quello che fai secondo me questo è molto importante e poi secondo me chi si approccia a questo tipo di cose chi si inventa qualcosa chi si inventa un percorso chi le inizia ha sempre un po' delle manie di grandezza delle cose per cui pensa di saper fare delle cose solo lui magari non superficiali ma in fondo ce le ha e quindi sembra sempre che come le fanno gli altri non vadano bene e invece per lavorare insieme devono andare bene per forza anche come come le fanno gli altri quindi bisogna arrendersi a questa evidenza se no si fa le cose da soli grazie Claudio tocca a te io raccolgo molto brevemente perché una risposta sintetica di come si gestisce orizzontalmente una realtà non ce l'ho ma raccolgo volentieri da Maddalena l'idea che appunto è una pratica che si sviluppa nel tempo grazie a diverse esperienze grazie a diversi passaggi diverse storie eccetera il fatto di riuscire a viversi la dimensione della partecipazione a qualche cosa che si sta creando in un modo che riesca a dare a tutti la possibilità di esprimersi pareteticamente insomma poi questo non toglie che ci siano anche delle differenze appunto di ruolo come perché sono delle cose che ci si dà in termini organizzativi che si ridiscute molto spesso che si cerca di capire tutti quanti il problema del 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 verticismo è quando appunto tu non capisci esattamente manco che pezzo stai facendo di una macchina di cui ti sfuggi un po' il senso quindi chiaramente ci sono tanti tanti livelli dopodiché non sto assolutamente banalizzando non è per niente semplice mantenere questa orizzontalità soprattutto quando devi fare anche molti appunto per fare un film ad esempio diciamo delle decine di migliaia di euro e quindi fai anche degli investimenti delle cose che comunque pesano su a quel punto lì non più solo su una persona ma su un gruppo di persone che ha scelto di avere questa responsabilità è qualche cosa su cui serve molta fiducia serve anche appunto un po' di pratica e a noi il fatto comunque di venire tutti da delle storie di attivismo ci ha insegnato comunque molto anche questo tipo di pratica così come l'associazionismo culturale o tante altre forme di reciprocità e di ritorno alla parola che ci è piaciuta tanto appunto di comunità differenti che cercano di organizzarsi per scopi condivisi io credo che dobbiamo imparare molto dalle forme di organizzazione orizzontale del lavoro e perché guardando anche un po' la realtà in cui diciamo monadi giovani con le difficoltà che avete ben ricordato voi vagano in un mondo in cui sì è vero il tirocinio chiaramente è una cosa molto formativa eccetera però anche l'idea di riuscire a organizzarsi in maniera diversa per creare nuove forme di lavoro e lottare anche io credo che questo sia ad esempio una delle cose più interessanti che ci ha mostrato questo periodo del cavolo che stiamo vivendo persone che lavorano nell'ambito della cultura che si erano non sono non voglio essere tranchant però il tema dei diritti di alcuni lavoratori non era particolarmente sulla bocca neanche degli stessi lavoratori che sono musicista ecco i musicisti sono sempre stati abbastanza pessimi come capacità di crearsi delle categorie di rappresentanza e di fare delle lotte per i propri diritti di lavoro ecco credo che sia un momento in cui ripensare forme orizzontali di lavoro ricreare dei momenti per reclamare o per costruirsi nuovi momenti di diritto e di mutualismo credo che siamo a un momento abbastanza dimessa in causa di tante cose che riguardano la propria costruzione della propria professionalità e vediamo nel bene e nel male vediamo che cosa appunto riusciremo a costruire con nuovi modelli grazie grazie io spero anche dal punto di vista di contenuti in realtà abbiamo messo tanti contenuti che sono stati anche solamente accennati quindi insomma spero visto che questo video poi verrà salvato caricato anche sul sito di Flash cioè sia sulla pagina di Flash Giovani che sul canale YouTube quindi sarà possibile vederlo e anche per chi è entrato arrivato tardi può essere trovare degli spunti anche all'inizio della live io non so non sono arrivate altre domande quindi se non ci sono altre riflessioni possiamo anche chiudere qui con cui c'è una discreta ora e mezza di chiacchiere veramente interessanti abbiamo finito il primo ciclo di banchi di prova a settembre speriamo di proporre dei momenti più laboratoriali in cui magari si lavora anche con le mani e in presente adesso vedremo come proseguirà questo momento dobbiamo stare un po' tutti i distanti e comunque finito questo ciclo è già iniziato un altro dedicato al lavoro con uno sguardo magari delle agenzie per il lavoro che stanno per i giovani dall'altra parte della barricata a verificare come tutti i presenti se si è adatto a una certa azienda o meno sarà non più in diretta facebook ma in modellità webinar per cui ci si iscrive e tutte le settimane troverete in un page di flashgiovani.it e sulla nostra pagina facebook il tema e l'incontro della settimana per cui invito chi ci ascolta chi ci vede a partecipare è molto interessante vedere lo sguardo di chi in realtà decide se vai bene o non vai bene per un certo tipo di lavoro e quindi possono dare anche dei suggerimenti molto interessanti su come approcciarsi bene grazie mille allora dico giusto al volo rilanciando alla seconda fase appunto come anticipavi dei laboratori che ci saranno da settembre a novembre le tematiche saranno laboratori di relegatoria stampa 3d incisione sull'inolium ceramica illustrazione e fumetto quindi insomma per chi fosse interessato sul sito flash giovani cercando banchi di prova trova insomma i prossimi incontri vi ringrazio grazie mille insomma di aver condiviso la vostra esperienza di essere state qui con noi grazie a voi grazie a tutti grazie a voi alla prossima a presto vi aspettiamo se volete venirci a trovare noi siamo a San Lazzaro abbiamo un luogo fisico dove oltre a fare chiacchiere si sbronza e poi si dimostrano anche cose serie ecco si fanno anche cortometraggi Cecilia è testimone ogni tanto proiettiamo anche visto perché abbiamo fatto anche roba con i libri per cui se volete presentare un libro Elena noi ti aspettiamo se diciamo si può fare qualcosa insieme ottimo allora chiediamo qui ciao a tutti e tutte arrivederci arrivederci arrivederci